Il vicepresidente provinciale di ConfCommercio Antonio Prelati è stato ricevuto a Ragusa dal giudice del Tribunale Vincenzo Saito. Lo scopo dell'incontro fa riccarezza sulle procedure da avviare in ordine al periodo di riabilitazione dopo quella in cui un'impresa dichiara fallimento, in particolare per una situazione relativa al protesto di assegni bancari. La ConfCommercio provinciale ha chiesto al giudice ragusano, se possibile, facendo riferimento alle nuove normative vigenti, di ridurre il periodo di riabilitazione ad un anno e due mesi per quelle aziende che dimostrano di essere sane. Per Prelati si tratta di una questione delicata che si è cercato di affrontare con la dovuta accortezza. In questo senso è stata importante la disponibilità manifestata dal dottor Saito. Se la situazione avrà una sterzata positiva, rimarca Prelati, sarà indubbiamente un risultato di fondamentale importanza per quelle aziende interessate a rimettersi nei circuiti economici, senza dover attendere invece un periodo eccessivamente lungo. Nei prossimi giorni, concludo l'esponente di ConfCommercio, approfondiremo meglio la questione. Grazie. Grazie.